Buongiorno Buongiorno e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa che inizia subito con l'apertura dei quotidiani che oggi troviamo in Eticola. L'apertura è dedicata alla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare a quelle delle prime pagine dei quotidiani nazionali. Perciò vogliamo iniziare subito con la prima pagina del quotidiano Il Centro di Pescara con il titolo di apertura. Ricopiano, le indagini si allungano. Pescara, il vaglio della procura, il telefonino del gestore del Rosso. Vogliamo vedere altri titoli. Il processo in Cassazione sulla discarica di bussi, nessun colpevole e addio alla bonifica. Acqua del Gran Sasso, dieci big indagati e sigilli all'impianto. La foto di copertina del quotidiano Il Centro, Penevlope al mare, a Milano la scommessa di Liuzzi. Invece sul lato di Spalla, sempre sul comune di Pescara, da oggi le multe in Viale Regina Margherita. Da oggi pomeriggio scatteranno le multe per auto, moto e furgoni che percorreranno la zona a traffico limitato di Viale Regina Margherita. Monte Silvano, bimba chiusa in auto, salvata da un poliziotto. Zona di Francavilla, Porto, la giunta vara il progetto per completarlo. Adesso nel taglio basso, assalto in villa, sono sei i banditi, lanciano novità dalle indagini, il boss aveva seviziato, anche un altro anziano. Elezioni regionali, centrodestra, Fratelli d'Italia, Biondi e Morra si contendono la candidatura. Qui dice infatti, Fratelli d'Italia, esclude dalla corsa al governatore ed imprenditore Michele Russo, Antonella Ballone, Paolo Primavera e l'economista Terramano Stefano Cianciotta, Impole Biondi e Giandonato Morra. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano Il Centro, questa volta della provincia di Teramo. Titolo di apertura, Acqua Rischio, Acqua Rischio, dieci indagati, sequestrate le captazioni di Terruzzo sotto i laboratori del Gran Sasso. Anche qui si parla del taglio alto della discarica di Bussi dove dice nessun colpevole e invece il processo d'appello sulla discarica crollata a Teramo assolti tecnici e politici. Sant'Omero muore travolto da un auto invalido, 53enne, si chiama Fabrizio Iannetti e stava camminando sulla strada provinciale 13 dopo aver fatto la spesa. Mosciano, bimbo di due anni, fugge da scuola ritrovato, scusate, illeso. Comune di Giulianova, il comune decise 21 assunzioni di qui a tre anni. Anche qui nel taglio basso si parla dell'assalto in villa a Lanciano. Adesso vogliamo passare al centro, questa volta della provincia di Chiedi, della zona Lanciano-Vasto. Infatti, proprio l'articolo di apertura, rapina in villa, i banditi sono sei. Lanciano, il capo della banda, si eminziò l'anziano padre del sindaco di Frosinone. Ci spostiamo sul lato della spalla del quotidiano, nel comune di Ortona, paziente prenda spinta il medico. Caos all'ospedale Bernabèo di Ancona, un paziente impreda la rabbia, spintonato un medico. Sempre a Lanciano, Parco Valente, un'area verde per i concerti. La zona comune di Chiedi, il teatro Maruccino, oggi chiude il teatro Maruccino. La regione annuncia 300 mila euro, ma di primio non si fida e ferma l'attività. Vasto, 30 alberi darneggiati, potati male. Adesso ci spostiamo al centro della provincia dell'Aquila, anche la zona comprende di Avezzano e Sulmona. L'articolo di apertura è comune crepe in maggioranza. L'Aquila, Silveri contro la Mannetti. Cattiva gestione sulle partecipate. Sempre gli articoli di spalla. Inchiesta da Avezzano. Farmaci scaduti in ospedale. Guai per 17. Sono 17, dice le persone indagate, tra dirigenti medici e infermieri dell'ospedale di Avezzano. Accusati di detenzione per la somministrazione di farmaci scaduti. Sempre ad Avezzano. No al traslogo del mercato. Oggi il corteo. Comune di Sulmona. Niente mensa a scuola. Mille annunni con il panino. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano Il Messaggeno della regione Abruzzo. Titolo di apertura è il capo banda può tornare libero. Le belve di Lanciano. Forcing degli inquirenti per inchiodare il quarto arrestato. Alle responsabilità per la rapina. La mamma dice, se è stato lui è giusto che soffra. Le vittime niva di messa i martelli di nuovo a casa. Bussi, sciocche, le dieci condanne cancellate dalla Cassazione. Si pario sul disastro ambientale a 11 anni dalla scoperta della discarica. Teramo e il caso Acqua in dieci rischiano l'invio a giudizio. Pescara, Anna, violentata e uccisa. Indagati, due romeni. La città è il quotidiano della provincia di Teramo. Titolo di apertura. Dieci indagati per l'acqua del Gran Sasso. Chiusa l'inchiesta. Avviso di garanzia per i vertici di laboratori. Strada dei Parchi e Ruzzo. Infatti, qui vediamo nella foto di copertina il provvedimento. La magistratura mette i sigilli alle cappettazioni dei laboratori. Gli ambientalisti. Adesso rimuovete le sostanze pericolose. Discarica di bussi. Assoluzioni e prescrizioni. In Cassazione. Santo Mero. Travolto e ucciso mentre passeggia. E infine, il bando GAL, Paolo Gatti e Mauro Febbo, chiedono le dimissioni dell'assessore Pepe. Adesso abbiamo terminato con le prime pagine dei quotidiani regionali. Vogliamo passare alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Con il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica, il governo sfida la UE e i mercati se ne faranno una ragione. Manovra a 40 miliardi. Borsa a meno 3,7. Sale lo spread. Povertà. I soldi a oltre 2 milioni di persone. Infatti, dice, con la manovra che lievita fino a 40 miliardi, il governo giallo-verde sfida l'Europa. Nel taglio basso, vediamo sul ponte crollato a Genova, Mattarella firma il decreto, Genova il commissario. Con il conflitto di interessi, è un manager fincantieri. A Torino, volley sfuma il sogno mondiale degli azzurri. Passa la Polonia. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del Corriere della Sera. A titolo di apertura, la manovra scuote la borsa. Conti pubblici, il listino cede il 3,7%, sale lo spread. Tensione con l'Unione Europea, la preoccupazione del colle. Caso Tria. La maggioranza rassicura il ministro, ma resta l'ombra delle dimissioni. Vediamo adesso nel taglio medio, vediamo la foto del fondatore di Facebook, l'attacco Adger e i timori di Zuckerberg. È un problema serio. Facebook, allarme e sicurezza, violati 50 milioni di profili. Genova, scelto Gemme, il commissario che ha la madre tra gli sfollati. Vogliamo adesso spostarci sulla prima pagina del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Il titolo di due titoli di apertura, legge ad pezzonam e niente denuncia per l'ammanco. Il cognato di Renzi salvato da Unicef e PD. L'agenzia dell'ONU mette le mani avanti al momento non risulta ci siano stati furti. Quando arriverà la locatoria internazionale vedremo se ci sono elementi tali da far cambiare la nostra posizione. Gran Sasso, l'istituto avvelena le acque, centro nucleare, inchiesta su presidente e nove dirigenti. Caso Montedison, discarica bussi tutti assolti in Cassazione. Via D'Amelio, Borsellino, i tre agenti a giudizio per depistaggio. Vediamo anche qui, titolo di apertura, il governo in guerra con l'Unione Europea che per ora resta a guardare. Manovra, non rispetterà i paletti del fiscal compact, crolla la borsa, sale lo spread. Infatti i mercati reagiscono al deficit più alto delle aspettative. Caso pedofilia, la denuncia a Buenos Aires, il Papa ha protetto il prete che abusò di me per sette anni. Vogliamo adesso spostarci alla prima pagina del quotidiano La Stampa, che anche qui ha il titolo di apertura sulla manovra. Def, la borsa brucia 22 miliardi. Mattarella, preoccupato per i conti. I 5 Stelle contro il sottosegretario Giorgetti. Ponte di Genova, il commissario è un manager. Fincantieri, riprendendo la manovra economica, Piazza Affari perde il 3%, spread a 267. Bruxelles, violate le regole, Salvini avanti in ogni caso. Vogliamo adesso vedere, nel taglio medio, militari e populismo, i rischi del Brasile che va al voto. Supporter del candidato presidente Bolsonaro, ultranazionalista e exnofobo. Vogliamo adesso vedere, sempre sul quotidiano La Stampa, i titoli di spalla, la visita in Germania, la Siria riavvicina Erdogan e Merkel, ma è gelo sui diritti. Roma, dai social alla realtà, la rivoluzione flop della giunta, raggi. Ci spostiamo adesso sul quotidiano Il Tempo, ha un titolo di apertura, con aiuto. L'Italia affonda, Movimento 5 Stelle esulta. Una manovra folle, spread a 276, borse a picco. Pese verso il baratro, per pagare i fannulloni i debiti ricadranno sui nostri figli. Qui invece, nel taglio medio, vediamo una foto, dove il vicepremiere dice Ogni promessa è in debito, si va allo scontro, la guerra preventiva di Bruxelles. Nel titolo di spalla, oggi alle ore 15 c'è il derby, Roma e Lazio all'esame di settembre. Nel taglio basso, parla Salvini, Matteo oggi a Latina, la Raggi ha fatto anche cose buone. Un sindaco leghista nella capitale. Riguardo al vitalizio, valanga dei ricorsi contro i tagli. Pioggia di carte bollate per tenersi il vitalizio. L'Europa vuole l'Italia in crisi a vita. Il parla Banon, il guru di Trump, la gente comune deve ribellarsi all'elite. Ponte di Nona, sempre Roma, ostaggio dei nomadi. Roma armati di coltello, rapinano sedicenne. Tragedia a San Giovanni, strangola la moglie e minaccia il suicidio. La prima pagina del quotidiano Il Messaggero. La prima pagina nazionale. La manovra spaventa la borsa. Salvini, crescita, l'Unione Europea ci teme. Vediamo anche, pronti a lasciare anche i tecnici del tesoro, i timori del Colle per la tenuta dei conti. Tria prepara lo strappo via dopo la firma. Luigi e Matteo e la sfida europea. Basta briciole. Vediamo adesso vedere sul titolo di spalla, sempre sul ponte Morandi, ok al decreto per la ricostruzione. Gemme commissario, c'è il sì del Quirinale, e escluse le aziende legate alle concessionarie autostradali. Invece nel taglio basso, sempre si parla di Facebook, sempre più fragile, ha creati 50 milioni di profili. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano libero, sulla prima pagina. A titolo di apertura, l'albero della cuccagna è retto dai grillini. I nostri soldi ai lazzaroni. La borsa prende male il reddito di cittadinanza, persi 25 miliardi in un giorno. Lo sapevano tutti, tranne Di Maio e compagni che festeggiano la disfatta. Tria è sconfitto, si dimetta. Vediamo nel taglio basso. Amici miei atto secondo a Monza, Silvio e Galliani tornano a fare calcio. Vogliamo adesso spostarci sul quotidiano Il Manifesto. col titolo di apertura, Il rischia tutto. Spread e mercati non garantiscono, bruciano in borsa 25 miliardi. Banche sottotiro, mentre le agenzie di rating si preparano al deglassamento dell'Italia. Moscovici abbassa i toni della critica, ma il governo rilancia e Conte sfotte. Se ne faranno una ragione. sempre sul quotidiano Il Manifesto. Nel taglio medio si parla anche qui della ricostruzione del ponte. Genova, il commissario di Fincantieri. La ricostruzione del ponte adesso partirò alla velocità della luce, si sbilancia a dire Di Maio. Alla velocità della luce di certo è arrivata la firma di Mattarella per emanare il decreto Genova, approvato finalmente solo ieri sulla scrivania del Quirinale. Mediterraneo, l'odissea infinita dell'Aquarius 2. Per l'Aquarius 2 la situazione sta diventando davvero difficile. Non si era mai visto che una nave viene tolta la bagniera per due volte in un mese. vogliamo adesso spostarci sul quotidiano La Verità. Il titolo di apertura Ecco chi minaccia davvero il risparmio degli italiani. Il governo prova a rilanciare l'economia uscendo dai vincoli dell'austerity. Giornata pesante sui mercati. Il PDT fa disastro e con i suoi allarmi espone il paese. Quando il 3% lo invocavano loro andava bene? E poi vediamo le foto dei politici che secondo loro minano il risparmio degli italiani. Nel taglio medio il titolo L'unicef e il PD salvano il cognato di Renzi. L'organizzazione non presenta denuncia grazie alla legge varata in extremis dall'esecutivo di Gentiloni. Conticini e i suoi fratelli potranno godersi i 6,6 milioni destinati ai bambini poveri. Dal Cosapir a Lenin, nei grandi dello Stato, resta una rete di fedelissimi del bullo. Intervista a Carlo Nordio. Il CSM tutto da rifondare. Il PM della nave 18 rischia il boomerang. Vogliamo adesso vedere nel taglio basso. Chissà se la Chiesa si comporterà così anche con il cardinale Gay. Gli piacevano le donne, funerale vietato a Zanza. Sempre questo tipo di argomento. C'è sul titolo di spalla la foto dell'annunzio Carlo Maria Viganò. Aulette sa tutto. Il silenzio di Bergoglio conferma il mio dossier. Il mattino di Napoli. Titolo di apertura. Processo crescent. La vittoria di De Luca. Prescritto il reato di falso. Il presidente della regione assolto dalle altre accuse. Evita la sospensione. Il caso. Rifiuti e ospedali. 5 Stelle bloccano il governatore. Governatore. Il titolo anche qui di apertura. Vola lo spread di Timori del Colle. Le borse bocciano la manovra. Minano brucia 22 miliardi. Differenziale BTP bond a 280. Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti. E Tria pensa allo strappo. Via dopo la firma. Vediamo nel taglio basso le inchieste del mattino. Diete miracolose e finte ipnosi. Quando il medico è un truffatore. Vediamo nel titolo di spalla. Si parla della partita che si terrà tra Milan e Juve. Il grande giorno di Juve-Milan. La carica di Ancelotti. Se perfetti dice vinciamo. Avvenire. Quotidiano l'avvenire. A tutti i costi. Manovra 40 miliardi. Almeno 27 scoperti. Cede la borsa. Sale lo spread. L'Unione Europea. Attendista. Conte Di Maio e Salvini. La bocciatura della Commissione non ci spaventa. Spiegheremo le misure. Ma il Colle è preoccupato. Vogliamo vedere la prima pagina del Sole 24 ore. Quotidiano economico. Manovra. Borse K.O. Spread in volo. Il deficit. Pille al 2,4%. Spaventa i mercati. Piazza affari. Meno 3,72%. Boccia. Manovra da valutare sull'impatto per l'economia. Sostenga la crescita e il lavoro. Gelo da Bruxelles. Anche se Moscovici frena. Evitiamo giudizio caldo. Andiamo nel taglio basso. Asta 5G. 6 miliardi. Non è finita. Già raccolto. Oltre il doppio dell'incasso. Previsto lunedì nuove offerte. Ma i sindacati temono l'impatto negativo su imprese già indebitate. Adesso abbiamo concluso le prime pagine dei quotidiani nazionali. Vogliamo passare alle prime pagine sportive con la Gazzetta dello Sport. Titolo di apertura. Allianz Stadium. Ore 18. Juve Napoli scopre le carte. Puntata a scudetto. Il marziano Ronaldo contro il genio di Insignia. Allegri per il più 6. Ancelotti da aggancio. Voglio tutto. Vediamo infatti sarà sicuramente una bellissima partita. Gattuso sotto esame invece. Passiamo all'argomento Milan. Tre partite per guarire il Milan. E ritorna il fantasma di Conte. L'ex CT è libero ma vuole che il Chelsea ritira la causa. Ritiri la causa. I guaine. Più no che sì. E domani c'è la sorpresa Sassuolo. Vogliamo anche qui si parla del titolo Adriano e Silvio. Monza tra due anni. Derby col diavolo. Gagliani questo club è la mia vita. Berlusconi sta tornando l'entusiasmo. Nel taglio basso si parla della squadra italiana di Volli. Nazionale limitata. Niente miracoli. Fuori dal mondiale. O ci provano le azzurre. Vogliamo adesso passare alla prima pagina del quotidiano sportivo. Il Corriere dello Sport. E qui la testa. Allegri a zero alle tensioni. Conte più per loro. Ancelotti allo scoperto. Mai firmato per il pari. Punto al massimo. Di Bala in panchina. Milic con insigne. Stadium esaurito. Andiamo in merito all'Inter. Lautaro, Icardi, Pampa, Staffetta. Vogliamo adesso vedere la prima pagina del quotidiano tutto sport. Quoditiano di Torino. Anche qui si parla della grande partita che si terrà alle ore 18. Juve Napoli. Ci era 7 alla prima sfida a Scudetto. Vi dico tutto su Ronaldo. Intervista a Pontes. Il suo primo tecnico allo Sporting. Arrivò a 12enne a Lisbona. A un certo punto voleva mollare. Per tirarlo su di morale lo portai anche a un concerto degli U2. La Juve lo esalta. Gli allungherà la carriera. Nel titolo di spalla vediamo in merito Ventura. Apro il cuore. Il cuore il Toro chieda scusa. Solo dopo ho capito che allenavo un club speciale. Poi nel taglio basso vediamo, si parla sempre del volley, la Polonia cancella il sogno mondiale di una spenta Italia. Poi in basso, taglio basso, vediamo il golf che Molinari, l'Europa vola, usa staccati basket e super scoppa. Brown guida la sua Torino contro il Trento. Anche qui si parla di Gagliani. Fra due anni il derby Monza-Milan. Adesso vogliamo fare un breve break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni medio per le prossime ore. E poi torniamo con la seconda parte della rassegna stampa. Bentornati alla seconda parte di Mattino 6. Torniamo subito alla lettura delle notizie, delle pagine interne, questa volta dei quotidiani regionali. Passiamo subito con il quotidiano della provincia, il centro della provincia di Pescara. Sempre su riguardo a bussi, la Cassazione assolve i dieci imputati. Sentenza nella notte, annullati anche i risarcimento civili. Nel taglio basso, il registro dei tumori è sparito nel nulla. La denuncia di Smargiassi, Movimento 5 Stelle contro Mascitelli. Anche bussi e popoli sono fuori controllo. Passiamo adesso anche a un'altra inchiesta. L'inchiesta sull'acqua, la svolta, Gran Sasso, dieci indacati e un sequestro. La procura accusa i vertici di Infin, strada dei parchi e ruzzo. Costante pericolo di inquinamento, sigilli all'impianto. Qui vediamo le foto anche degli indacati. Gli ambientalisti, subito più sicurezza sul caso 5 esposti di Dexantris. L'osservatorio indipendente pronto a essere parte civile. Passiamo all'assalto in villa di Lanciano. Come titolo vediamo, assalto sciocca la villa. L'inchiesta sono sei banditi spietati di Lanciano. Il capo della banda romena da minorenne derubò e seviziò dentro casa l'anziano padre del sindaco di Frosinone. Qui vediamo anche le foto delle persone. E la madre del boss dice Se è stato lui deve soffrire, la donna se la prende con il figlio e Niva mutilata all'orecchio è tornata tra i suoi ulivi. Ora sto bene. E a riguardo abbiamo anche un servizio che è stato preparato per noi dalla redazione dei colleghi del TG6. Si chiama Alexander Bogadan Coltenau e da 26 anni il quarto componente, la banda che ha rapinato e malmenato brutalmente i coniugi martelli a Lanciano. Questo il video del suo arresto a Caserta ieri pomeriggio per il quale è stato fondamentale l'apporto tecnologico fornito dal SARI, il sistema automatico di riconoscimento delle immagini in uso alla polizia scientifica. Una delle telecamere di sicurezza di Lanciano, infatti, ha ripreso parte del viso e del mento dell'uomo. Quelle immagini sono state poi inserite nel SARI, che ha quindi fornito un riscontro e confermato l'identità del romeno. Il sistema, inoltre, ha permesso di ricollegare la sua vera identità, riportata sul cartellino fotosegnaletico presente in banca dati, ad un documento falso con cui il ricercato si muoveva sul territorio italiano. Coltenau è stato tradito dalla vendita di uno degli orologi rubati all'interno della Villa dei Martelli. Cercava di cederlo ad un ricettatore e così, dopo un inseguimento a piedi, è stato fermato. Intanto, per il fermo dei complici, i fratelli romeni Costantin Aurel Turlica e Ion Cosmin Turlica e il cugino Aurel Rousset, finiti nel supercarcere di Lanciano, le accuse sono quelle di rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. I tre, ufficialmente, lavoravano come operai edili e giardinieri, in realtà però avevano il vizietto di furti e rapine anche cruente. Il loro interrogatorio di garanzia è previsto domani davanti al GIP Massimo Canosa. Ieri il loro avvocato Domenico Russo li ha incontrati per stabilire le strategie difensive. È molto probabile che si avvarranno della facoltà di non rispondere. La banda di romeni era comunque finita nel mirino dei carabinieri a seguito di sei furti con spaccata commessi sul territorio nelle ultime tre settimane ai danni di bar, tabacchi e benzinai, dove avevano rubato numerosi tagliandi grattevinci, stecche di sigarette e contanti. Vogliamo continuare con la lettura delle pagine interne del quotidiano Il Centro, sempre verso le elezioni regionali. Il centrodestra, la rosa dei nomi, scende a cinque, solo politici. Corsa a governatore, il verdetto della riunione di Fratelli d'Italia, fuori russo, ballone, cianciotta e primavera. È sfida Biondi, Morra, la buona sanità. Il progetto Noemi ora si fa sul serio, via libera alla formazione dei medici e ai 300 mila euro di fondi per le famiglie. Sempre sul problema dei cindiali, sarà possibile catturare i cindiali nei parchi. Iniziativa della Regione, Berardinetti, limiteremo i danni alle colture e alla circolazione stradale. Vogliamo spostarci sulla provincia di Pescara, sulla tragedia di Ricopiano. La tragedia dell'hotel di Ricopiano si indaga sul telefonino di Del Rosso. Al vaio della procura e il cellulare, gli ultimi messaggi del gestione del resort. E la chiusura slitta di qualche settimana. Infatti, vediamo qui, dice, vertice in procura, giovedì scorso per mettere a punto le carte in vista della chiusura delle indagini sul disastro di Ricopiano. Andiamo avanti, sempre sul comune di Pescara. Via Regina Margherita, da oggi le multe scattano le sanzioni nella zona traffico limitato controllata da telecamere. Oltre 2.500 residenti ancora senza permessi. Qui vediamo la foto dell'assessore Giotati che dice nel weekend ci sarà una pattuglia di vigili all'ingresso della strada per avvisare gli automobilisti che sono in vigore. I divieti liti e violenze in piazza Primo Maggio. I residenti di via Carducci in commissione. Il giardinetto è invaso dai disperati, dicono. Vogliamo spostarci in basso. Asili nido di Porta Nuova. I lavori in dirittura d'arrivo sopra il luogo di Cuzzi nelle strutture La Minosa e La Conchiglia. Vogliamo adesso vedere le strade del centro della notte. Via Sulmona, ricovero dei senza tetto. Via Sulmona la notte si trasforma da elegante strada del centro cittadino e diventa ricovero dei senza tetto. Personale in trincea. Ospedale un altro giorno di tensione. Poliziotti chiamati a intervenire nel reparto di ginecologia per il marito di una paziente andato in escandescenza. Qui vediamo nella foto. Il poliziotto in ospedale, l'ospedale civile di Pescara. Dimesso da reparto e subito arrestato. Prendiamo adesso sempre sul comune di Pescara. Il comune non rispetta il giro di vite sui migranti. Sospiri Forza Italia, accusa il sindaco Alessandrini di violare il decreto del ministro Salvini. Assurdo trasformare i centri di accoglienza per affidarli alle cooperative rosse. Infatti, vediamo il commento. Il sindaco Alessandrini fa il gioco delle tre carte e cerca di bypassare il decreto Salvini dell'immigrazione. Controllo straordinario a Rancitelli. Due arresti e sei denunce. Invece, riguardo a un altro argomento di cronaca, la donna trovata morta un anno fa a Pignoli, giustizia per Anna uccisa nel sottopasso. Niente imposte comunali per i negozianti beffati. Proposta di confartigianato per i 26 commercianti rimasti senza indennizi. L'assessore al bilancio di Odati. Ipotesi da valutare, ma è colpa della Regione. Liceo classico, un'altra settimana di doppi turni. Come sappiamo, i lavori di messa in sicurezza e il rifacimento dei solai si sono conclusi nei tempi ripristi dalla provincia. Quindi non sarà possibile ripristinare ancora l'orario completo e definitivo. Va da lunedì. Spostiamo sempre un'altra pagina. Il locale pescarese Penelo Pammare sbarca a Milano. È una scommessa. Vediamo anche, ma prima è arrivata la pizzetta di Trieste a Porta Ticinese. Vogliamo andare avanti. Cronaca di Montesilvano. Bimba chiusa in auto, salvata dalla polizia. La madre scende, dimenticando le chiavi della vettura, e la piccola di due anni blocca le porte. Un agente rompe il finestrino. Via Aldomoro rapina una prostituta e la ferisce. Preso sempre il comune di Montesilvano. Furto in comune è scoperto il latro. I carabinieri denunciano 21enne di Montesilvano e recuperano la TV rubata. Vogliamo andare sempre adesso sulla cronaca di Montesilvano. Ci stiamo spostando anche sulla zona di Città Sant'Angelo. Espoltore. Il comune di Città Sant'Angelo affitta terreni per attività sportive. Il bando riguarda un'area di 12 ettari incontrata a Sant'Agnese. Dopo il motocross si è fatta avanti una società sportiva per un poligono di tiro. Villa Santa Maria, la cara podistica, sport, musica e buon cibo con Scollinando. L'area metropolitana, questa volta della zona di Francavilla. Via libera al completamento del porto. Francavilla l'opera attesa da dieci anni. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per concludere i lavori. Il sindaco e i colleghi salutano invece la vigilessa Silvia Durogno, in pensione dopo 30 anni dalla polizia locale. Questa volta ci spostiamo nella zona di Penne, Valtavo, Popoli, Val Pescara. Rocca Sant'Ufemi, abitazione a fuoco, salvo il proprietario. L'uomo ieri mattina si trovava fuori e il suo rientro ha dato l'allarme. Per i Vigili del Fuoco la causa è accidentale. Ci troviamo a Nocciano, l'evento ispirato alla serie TV Trono di Spade. Un altro argomento. La zona provincia di Chiedi. La vertenza del Marruccino. L'Olli annuncia 300 mila euro e di primo chiude il teatro. Il presidente ieri in città presenta un bando. I fondi forse fra due settimane, ma il sindaco va avanti con la protesta e ora basta. Non vogliamo elemosine. Anche qui a riguardo vogliamo vedere un servizio che è stato preparato per noi dai colleghi della redazione del Tg6. Prego. Ricostiamo bene la vicenda. Il Marruccino in tutti questi anni ha avuto 300 mila euro. Giunta Chiodi, giunta D'Alfonso. Nell'anno precedente, per iniziativa del presidente D'Alfonso, è stato predisposto un finanziamento ulteriore per il Marruccino di 200 mila euro per festeggiare il duecentesimo. Il presidente D'Alfonso annunciò che questo finanziamento sarebbe durato per due annualità. E arriviamo ad adesso. Divento presidente io, il Marruccino viene e mi segnala un problema. Intanto chiede conferma di questo finanziamento e poi mi segnala il problema dei tempi. Perché mi segnala il problema dei tempi? Perché il Marruccino, per effetto dell'iniziativa speciale presa in occasione del bicentenario, ha predisposto un rapporto con il metastasio di Macerata. Io ho incontrato insieme a loro il direttore del metastasio ed effettivamente il problema dell'urgenza di una parte di questo finanziamento c'è. E io mi sono impegnato a reperirla. Noi i finanziamenti che possiamo reperire in più usciranno dall'assestamento di bilancio. L'assestamento di bilancio si farà dopo che noi abbiamo fatto il riaccertamento e dopo che andando in Consiglio regionale. Una parte di questo finanziamento prima si può fare secondo le norme, secondo i poteri che ho, che sono comunque poteri più limitati di quelli di prima, come ben noto, spostando delle risorse nello stesso capitolo, mettendole sul marrucino e poi recuperando parte di queste risorse che sono spostate. Qui si è posto un secondo problema, perché io qui opero nel rispetto delle norme e non potendo decidere quello che mi pare, ma decidendo cose che poi per essere attuative debbano avere la firma del dirigente che firma. Il dirigente che firma, anche sulla base delle ultime indirizzi che ci sono venuti dalla sede comunitaria e dalla sede nazionale, dice che noi non possiamo, anche i fondi diretti, perché c'è un capitolo per i fondi diretti, li dobbiamo dare secondo una procedura. Oggi quindi si svolgerà un'aggiunta nella quale, avendo io insieme agli uffici, con uno sforzo, vi assicuro, molto complicato, reperito le risorse, spostandole, come ho detto, per trovare la riserva di… avrei dovuto per 200 milioni, l'ho fatto per 300 milioni perché mi rendo conto che il Marrucino ha bisogno, in questo step, diciamo, di una risorsa sufficiente. La risorsa è stata individuata e abbiamo individuato anche la procedura. Vogliamo continuare con la lettura degli articoli interni. Ci spostiamo a casa Cantidella. Il sindaco torna in consiglio, applausi e fuochi d'artificio. D'Angelo si riprende la poltrona. Un anno dopo l'arresto, l'opposizione diserta la seduta, l'abbraccio dei cittadini e la festa in piazza. Guardia Crele ha lavoro, invece, in comune con i sindaci, con 11 sindaci. Ora va in pensione. Una parte bassa, 30 alberi potati male. L'assessore ha uno sbaglio nel comune di Vasto. Protesta, invece, a Gamberale, al vuoto con la neve. Il sindaco Bucci contesta la data delle elezioni regionali e scriva alla Corte d'Appello e a Salvini. Provincia di Teramo. Tutti assolti per il crollo della discarica. Nel processo d'Appello confermate le assoluzioni dell'ex sindaco Chiodi e di due dirigenti regionali. Si annullate le condanne di Rabuffo e D'Antonio. Comune di Giulianova. Dopo 70 pensionamenti, il comune decide. 21 assunzioni in tre anni. Andiamo a spostarci nel comune di Santomero. Invalido muore travolto da un'auto. Fabrizio Iannetti, di 53 anni, tornava a casa a piedi con la spesa investito dalla Toyota guidata da un anziano. Tortoreto alto. Domani si insedia il nuovo paroco. Sempre a Tortoreto il comune perde la causa contro l'ex custode del cimitero. Mosciano. Mosciano. Bimbo di due anni, sparisce da scuola. Mosciano esce da solo e nessuno se ne accorge. Trovateli accompagnati a casa da un passante. Sempre della provincia di Teramo, comune di Silvi, gli tagliano le gomme del furgone mentre fa la spesa. Il cittadino denuncia la quarta volta in un anno. Comune di Atri. Duomo insozzato da guano dei rifiuti. Da poco riaperto, dopo due anni di lavori post-sisma, è già sporco. Italia Nostra cerca fondi per installare reti anti-piccioni. Vogliamo spostarci nella provincia del comune dell'Aquila. Incidente nella notte. Schianto col cinghiale. Tragedia evitata. Salvo il giovane commerciante che tornava a casa. Distrutta la sua fiesta, si propone il problema degli animali. Sulla strada statale. 17. Andiamo nella parte media. Il processo alla brigatista rossa. Chiasso in carcere, la gioce, assolta dal tribunale aquilano. La scienza in strada per tutti. Notte dei ricercatori e stritte scienze. Folle nel centro storico all'emiciclo. Questa volta della provincia dell'Aquila, della zona comune di Avezzano. Vende Ascish agli studenti. Denunciato. Il 31enne, perquisito in piazza Matteotti, si spostava vicino agli istituti superiori, alle medie o al terminal degli autobus. Carzoli, salvato sul ponte di Pietrasecca. Soccorso della postrada di Carzoli. Un 72enne voleva lanciarsi nel vuoto. Bloccato dagli studenti. Vogliamo vedere nel taglio medio. Farmaci scaduti all'ospedale. In 17, nei guai. Avezzano. Chiuda salindagine a tre anni dal blitz dei NAS. Sotto accusa medici e infermieri. Vogliamo adesso andare avanti. Vogliamo spostarci adesso alla pagina interna del quotidiano Il Messaggero. Sempre su Fratelli d'Italia. Canditato politico sulle elezioni regionali. E nel taglio basso chiude la farmacia per dedicarsi alla coltivazione del grano. consiglia ad altre donne volenterose un business tutto al femminile per rivoluzionare la loro esistenza. Sempre su Pescara. Dice voglio giustizia per mia sorella violentata e uccisa. E sempre Jennifer e le altre. Il caso alla camera. In un anno e mezzo. Ben nove delitti. Bimba intrappolata nell'auto salvata. La polizia libera la piccola di due anni. Rimasta chiusa sotto il sole cosciente. Sanità cura delle patologie cardiovascolari. In testa gli ospedali di Pescara e Chiedi. Stazione Porta Nuova. A ottobre il sottopasso sarà Terminal Bus. Nell'area metropolitana, sempre sul caso bussi, la Cassazione cancella lo scandalo. Annullate le condanne di ex manager della Callassia, Mount Edison. Vogliamo andare avanti. L'Aquila. I progetti strategici al palo si rischia di perdere i fondi. L'opposizione punta l'indice su quattro argomenti. Sede unica Parco della Luna, Piazza d'Armi e Scuole. Vogliamo vedere anche qui della bottiglia contro le sbarre. Assorta Nadia Lioice. Sempre nella zona di Avezzano. Sul Mona precipita per 10 metri. Grave operaio. L'incidente si è verificato ieri alla cartiera a Burgo. L'uomo era impiegato di una ditta esterna per manutenzioni. Immediatamente il soccorso è stato trasportato all'ospedale. Anche qui si parla di Carzoli. Il tentato suicidio salvato dalla polizia. Il 72enne. Chiedi fumata nera per il Maruccino. Abbiamo visto già un servizio svofatto dai colleghi del TG6. Il capo delle belve, ci spostiamo nella zona di Lanciano, può tornare libero. Gli investigatori sono al lavoro per cristallizzare l'indagine e per evitare l'eventuale fuga del Alexandru Bogadan Colteneo. La madre del bandito è stato lui punito. Lo deve soffrire. Salvini d'accordo. Pena esemplare per tutti. Ma in Romania. La zona di Teramo. Sempre sul caso dell'acqua del Gran Sasso. Ci sono dieci indagati. La presunta contaminazione da Pozzetti. La Procura chiude il cerchio. Sempre sulla zona della provincia di Teramo. Sant'Omero, travolto e ucciso sul ciglio della strada. Fabrizio Iannetti, 53 anni, è stato centrato sulla strada dei Colli. Dall'auto, mentre stava tornando a casa con le buste della spesa. Roseto, quel palo può crollare sull'asilo nito. È allarme e c'è questo timore nel comune di Roseto. Vogliamo adesso passare alle pagine interne del quotidiano della provincia di Teramo. La città. Anche qui inizia la pagina interna. Con quello che è successo a Bussi. La Cassazione cancella le condanne. Nessun responsabile per la bomba ecologica dell'ex stabilimento Montedison. Quattro le assoluzioni. E vogliamo andare avanti. Anche un altro caso. Inchiesta sull'acqua del Gran Sasso. Dieci indacati eccellenti. E sequestro delle captazioni. L'emergenza. L'inchiesta è scattata dopo l'emergenza idrica del maggio 2017. Che lasciò mezza provincia a secco. Vogliamo andare avanti. Il bando Gall, Gatti e Febbo chiedono le dimissioni di Pepe. Poche volte nella storia giuridica italiana il Tribunale amministrativo ha trasmesso gli atti in procura. La torre è sempre su Teramo. Nessun colpevole per il crollo della riscarica. L'appello conferma le assoluzioni di Chiodi, Gerardini e di Giacinto. E prosciogliera Buffo e D'Antonio. Andiamo ad andare avanti. Sempre con la provincia. Sant'Omero, anche qui. Tra volte ucciso da un'auto. Mentre passeggia Fabrizio Iannetti. Abbiamo un pensionato di 53 anni. Ha perso ieri la vita. Buoni pasto comunali dal PM. I dipendenti indagati per omessa denuncia sono stati interrogati in procura. Carenza cronica a Giuglianova del personale in comune. Il municipio giugliese ha 47 unità in meno rispetto a quante ne avrebbe. Infatti, il piano per cercare di sopperire. La Giunta ha approvato il piano per 21 assunzioni in tre anni. Operazione antidroga. Roseto, due in manette. Gli agenti della squadra mobile di Teramo se requestano 300 grammi di stupefacente e arrestano due fratelli. Vogliamo adesso andare avanti. Adatri, parcheggi a ridosso del centro storico. Amministrazione comunale al lavoro per cercare nuove aree per gli stalli. Vogliamo tornare sul quotidiano Il Centro, però questa volta sulle pagine sportive. Si parla del Pescara. Pescara che lunedì giocherà a Padoma. E Crecco, la Serie A, dice che ce la giocheremo fino alla fine. Il jolly non si nasconde. Vogliamo riportare in alto il club, i biancazzurri in Veneto, a caccia della prima vittoria esterna. Anche qui, a riguardo, abbiamo un servizio preparato dai nostri colleghi della redazione del TG6. Prego. Luca Crecco, Pescara a gonfie vele in queste prime giornate. Nella gara col Crotone c'è stato anche il tuo esordio. Nella gara meglio giocata dalla squadra in questo avvio di campionato. Sì, diciamo che abbiamo fatto una gran prestazione contro il Crotone. Abbiamo giocato bene, siamo stati compatti, non era una partita facile. Siamo stati bravi anche dopo il gol subito, di andare subito in vantaggio. Siamo partiti bene, cerchiamo di migliorare le cose negative e di continuare così. In una gara non facile come quella con i calabresi c'è stato un ottimo approccio di partita di Luca Crecco. Sì, diciamo, era tanto che non giocavo. Il mister mi ha messo dentro, mi ha detto di dare una mano sulla fascia al Cristiano che comunque stavano attaccando tanto. Mi sono messo lì, ho cercato di dare il massimo in fase difensiva e ripartire quello che mi ha chiesto il mister. Sono contento di essere tornato a giocare dopo tanti mesi di inattività. È una buona condizione, ovviamente vorresti giocare di più come tutti. C'è una guerrita concorrenza nel Pescara, però una sana rivalità, un bel ambiente nello spogliatoio. Sì, l'ambiente è bellissimo. Il gruppo, come ho detto già in passato, è un gruppo fantastico. Siamo tutti bravi e sicuramente c'è concorrenza e meglio così. Sei arrivato a Pescara probabilmente con qualche anno di ritardo perché anche qualche stagione fa, se non ricordo male, eri stato molto vicino al trasferimento in maglia bianca azzurra. Qual è l'obiettivo di Luca Crecco quest'anno con il Pescara in Serie B? Sì, tre anni fa dovevo venire già qui, dove poi non si è conclusa. L'obiettivo è sicuramente di far bene come stiamo facendo, siamo partiti bene, ma non molleremo. Sicuramente di portare il Pescara in alto. Andiamo alla prossima partita, il posticipo di Padova. Lunedì giocherete in casa di una squadra che nell'ultimo turno a Foggia ha sfiorato il risultato positivo. In vantaggio è stata poi sconfitta per 2-1. Una gara difficile come tutte, il Padova è una squadra che gioca bene soprattutto in casa. Sì, non sarà una partita facile, loro giocano bene, ma la stiamo preparando bene. Il mister la sta preparando nel migliore dei modi e andremo là per fare la nostra partita. È ancora presto per parlare di classifica, però sarebbe importante fare un risultato positivo per continuare a restare in alto. Sì, sicuramente continuare così fa far star bene sia noi, tutto il gruppo, che la società. Sicuramente è appena iniziato il campionato, quindi non possiamo parlare già di classifica, però più stiamo in alto meglio è. Vogliamo continuare con le notizie sportive. Passiamo al Teramo Calcio, che domani andrà in campo con il Gubbio, il Teramo a caccia del primo colpo. Novità in avanti, gli Umbri portano bene a Piccione. Zichella dice, cambia il tridente, d'attacco, Speranza, Eurebus. Vogliamo andare avanti. Il Giulianova, Serie D e il Castrum. Questo è il derby del cuore. Calcio a 5, si parla dell'acqua e sapone. Sfate il tabù, debutto e si tuffa in Europa. Vogliamo adesso passare alle pagine sportive del quotidiano Il Messaggero d'Abruzzo. Emozione Padova da Zeman a Pilon. Vediamo, porti un bel risultato, il Pescara. Teramo, in dubbio, Capitan Speranza, non ha partecipato alla rifinitura, si di preparazione in vista della gara di domani al Bonolis. Come abbiamo detto, c'è il gubbio. Vogliamo adesso passare alle pagine sportive del quotidiano della provincia di Teramo. Anche qui inizia il titolo. Rebus, formazione. Formazione, chi gioca con il gubbio, Speranza, molto in dubbio, proietti ancora out. Ma anche chi c'è non sembra essere ancora al top. E vogliamo, in questo caso, parlare anche di ciclismo. Il giovane ciclista ha avuto su Nicolò Pencendano e Francesco Parrano il 21 ottobre, festa per i 40 anni del TILM. La Gulp Pull, Val Vibrada, Sbanca Pretola, con la vittoria di Crecco. Noi abbiamo adesso concluso con la lettura della nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. La rassegna stampa di mattino 6 tornerà lunedì mattina alle ore 8, lunedì 1 ottobre alle ore 8. e i nostri notiziari continueranno con il Tg delle ore 13, delle ore 19 e delle ore 23. Io vi ringrazio nuovamente per la vostra attenzione e vi auguro una buona giornata. Io vi ringrazio per la vostra attenzione.